È svenuto per un malore su una panchina dei giardini porcinai. Al suo risveglio si è trovato senza documenti, portafoglio e cellulare. Poi i familiari sono stati contattati da alcuni sconosciuti, purtroppo non per un nobile gesto, ma per essere ricattati 200 euro per la restituzione dei beni. Protagonista, suo malgrado dell'episodio, un 76enne di Monte San Savino, che mercoledì mattina era venuto in città per alcune commissioni. Ad un certo punto il malore è la conseguente perdita di conoscenza sulla panchina e da questo punto qualcuno avrebbe approfittato della situazione per derubarlo. Poi nelle ore successive i familiari della vittima sono stati contattati da sconosciuti che erano pronti a riconsegnare tutto al legittimo proprietario, chiedendo però 200 euro per la restituzione degli oggetti. Il figlio dell'anziano così si è presentato il giorno della consegna in piazza della stazione, ma non da solo, assieme ad alcuni poliziotti in borghese che sono intervenuti nel momento opportuno ed hanno bloccato due cittadini pakistani, accusati adesso entrambi di tentata estorsione. Uno è stato arrestato, l'altro invece agli arresti domiciliari perché incensurato. Grazie. Grazie.